Adesso per fortuna anche in Italia è arrivata una nuova classe di farmaci, ne parleremo con il dottore Andrea Romigi, bentornato professore. Io ricordo che il dottore è responsabile della medicina del sonno dell'istituto neurologico Pozzilli, Neuromed di Pozzilli, bentornato davvero. Sono tanti gli italiani che soffrono di insonnia, soprattutto dopo gli ultimi due anni e mezzo, dopo il covid, tuttora si stanno portando dietro questo tormento, io dico perché è veramente brutto non riuscire a dormire, però cerchiamo di inquadrare meglio il problema. Chi è? Facciamo un po' l'identikit della persona insonne. Chi è? La persona insonne ha un problema delle cosiddette 24 ore, perché non è solo un problema del sonno, che è una difficoltà nell'addormentarsi, una difficoltà nel mantenere il sonno o un risveglio troppo precoce al mattino che può precedere di almeno 30 minuti quella che dovrebbe essere l'abituale sveglia. Ma poi ci sono le conseguenze diurne di questa cattiva qualità del sonno, la sonnolenza, ma anche quella percezione di fatica, di difficoltà di concentrazione. Quando tutte queste condizioni sono presenti almeno tre volte a settimana ed è almeno tre mesi, noi parliamo di insonnia cronica e quindi di un problema da trattare. Dobbiamo trattare un problema, tra un po' ci parlerà, dottor Romigi, di questa nuova classe di farmaci che è arrivata in Italia ed è disponibile ovviamente dietro consulto medico, questo è ovvio, però iniziamo a capire meglio che cosa succede all'interno del nostro cervello quando non dormiamo bene. Diciamo che per capirlo dobbiamo immaginare una zona del cervello molto profonda che si chiama ipotalamo dove ci sono due parti, una che regola prevalentemente la veglia che è il cosiddetto ipotalamo laterale, lì c'è una sostanza importantissima che si chiama orexina che regola la nostra vigilanza. Dall'altra parte, nell'ipotalamo anteriore, c'è una struttura invece che ragiona attraverso il GABA che è un neurotrasmettitore del sonno e quindi l'equilibrio tra queste due strutture fa sì che si accendano, si spengano interruttori nel nostro cervello che ci spingono a rimanere svegli o a dormire, ma anche a regolare moltissimi processi come la fame, gli aspetti cognitivi, la termoregolazione. E questo è importante, parliamo delle conseguenze perché lei ha parlato un po' del meccanismo c'è questa molecola, l'orexina, che un po' regola lo stato sveglia, come dire, sonno del nostro organismo soprattutto lo stato della sveglia e da lì poi sono partiti i ricercatori e hanno trovato questa nuova molecola però parliamo un po' delle conseguenze, le conseguenze perché sono conseguenze a volte anche molto pesanti per chi non riesce a dormire bene e non ha, come dire, una buona igiene del proprio sonno Sicuramente il problema più importante sono le conseguenze di natura sociale, lavorativa gli errori, ad esempio quindi il rischio di incidenti stradali, l'assenteismo ma poi anche tra i disturbi metabolici ricordiamoci che c'è una tendenza ad aumentare l'assunzione di cibo a sviluppare malattie metaboliche come il diabete o malattie vascolari come l'infarto, l'ictus e poi le conseguenze cognitive, se dormiamo poco acquisiamo, apprendiamo meno e quindi abbiamo difficoltà di memoria e tutto questo può predisporre a patologie neurodegenerative dove questi elementi sono elementi importanti Insomma, soprattutto per le persone di una certa età, le persone anziane potrebbero andare incontro a problemi cognitivi, come malattie della demenza segnale questo è molto preoccupante e dobbiamo correre ai ripari non vi dovete preoccupare perché adesso anche in Italia è arrivata questa nuova classe di farmaci proprio che si basa su questa molecola, su questa sostanza che noi stessi produciamo che è l'orexina Allora, che cosa sono questa nuova classe di farmaci? La scoperta la dobbiamo a circa una ventina d'anni fa quando su un modello di malattia che è l'opposto dell'insonnia, la narcolessia si è scoperti che questo neurotrasmettitore non funziona, ce n'è poco allora di lì si è andato avanti e si è capito che invece bloccando l'azione di questa proteina si può ottenere l'effetto di indurre il sonno soprattutto se questo blocco avviene di sera e quindi la nuova classe di farmaci lavora proprio sul meccanismo che è diverso dai precedenti trattamenti farmacologici e che promette molto bene perché agisce sul direttore d'orchestra e non sui singoli elementi dell'orchestra che regolano gli aspetti del sonno e consentendo anche trattamenti a lungo termine cosa che finora con i farmaci di precedente utilizzo non era perlomeno consigliato anche se molto spesso fatto Durante il Covid noi abbiamo fatto un abuso tante persone hanno usato un po' troppo i sonniferi allora lei ha detto bene la differenza tra queste due molecole tra le differenti molecole perché le vecchie molecole ce ne sono anche tante ne abbiamo a disposizione però è proprio questo e a chi è destinato questo nuovo farmaco? Sicuramente alle forme di insonnia cronica dove è necessario anche un trattamento a più lungo termine perché i vecchi farmaci hanno il problema di dover essere usati per non più di quattro settimane questo dovrebbe essere almeno la durata canonica poi ovviamente le situazioni vanno sartorializzate sul paziente sulla tipologia di insonnia però sicuramente dopo vent'anni di utilizzo sempre dello stessa tipologia di farmaci avere qualcosa di diverso che agisce noi usiamo un termine in medicina farmaco dinamicamente cioè vuol dire che ha un meccanismo d'azione finalmente nuovo ci consente di pensare di avere delle prospettive nuove almeno nella gestione farmacologica dell'insonnia Avete notato degli effetti collaterali particolari con questi nuovi farmaci? Perché lo sappiamo lei ci ha spiegato che le vecchie molecole per non più di quattro settimane questo è un po' l'approccio il protocollo terapeutico per queste nuove molecole invece gli effetti collaterali sono importanti oppure no? Allo stato attuale questo farmaco perché ce n'è uno solo attualmente approvato in Italia e siamo stati i primi in Europa insieme alla Germania ad averlo disponibile diciamo sembrano essere molto promettenti anche sul lungo termine del trattamento con dei profili di tollerabilità cioè di effetti collaterali diciamo abbastanza validi che lo rendono un farmaco sicuramente molto meno tossico diciamo un po' perché poi tutti i farmaci incidono anche sul nostro fegato che è un po' il nostro spazzino però parliamo non solo di farmaci parliamo anche di integratori perché insomma c'è anche un approccio insomma la natura ci può anche aiutare oppure no per quanto riguarda l'insonnia? Diciamo che ci può aiutare sapendo che alcune sostanze come la melatonina che è tanto utilizzata nel trattare i disturbi del sonno non la dobbiamo considerare come un ipnoinduttore cioè come un sonnifero ma come un modulatore del sonno un regolatore del nostro orologio la melatonina peraltro è un integratore fino alla dose di un milligrammo ma è considerata farmaco dai due milligrammi in poi ed è molto utile in quegli stati di riduzione della melatonina dopo i 55 anni tutti noi produciamo meno melatonina quindi avere un supporto esterno può aiutare il mantenimento della regolarità del nostro sonno Dottore si parla spesso ultimamente di orologio biologico dovremmo rispettare il nostro orologio biologico questo valso anche i famosi ritmi circadiani abbiamo vinto anche un Nobel nel 2017 insomma due ricercatori hanno vinto proprio per la scoperta dei meccanismi molecolari che sono alla base dei ritmi circadiani per cui all'interno del nostro orologio biologico è giusto rispettare lo stesso orario cioè se noi andiamo a dormire alle 22 o alle 23 è giusto che noi rispettiamo l'orario del nostro sonno? Assolutamente sì è importante la regolarità qui nella grafica vediamo proprio il processo di regolazione del sonno che rientra pienamente qui mi dai là per dare un altro messaggio importante nel fatto che la terapia dell'insonnia di prima linea dovrebbe essere una terapia non farmacologica però che è una terapia, un approccio di tipo psicoterapeutico psicoeducazionale che si chiama terapia cognitivo comportamentale dell'insonnia che tiene conto proprio di questa fisiologia che vediamo nella grafica cioè la necessità di sonno aumenta via via che ci allontaniamo dal momento in cui ci siamo svegliati ma la necessità di sonno ha anche una sua circadianità dettata dall'alternanza luce-buio se noi rispettiamo i nostri ritmi fisiologici e questa tecnica di approccio all'insonnia si basa proprio sul rispetto di questi ritmi sulla necessità di trascorrere nel letto quanto più tempo per dormire non per altre attività questo sicuramente può aiutarci nel migliorare la qualità del sonno questo è importante parliamo anche del pisolino pomeridiano della pennichella che è tipica dei paesi molto caldi anche in Giappone in Giappone per un segno d'onore mi spiegavano perché perché in Giappone per chi lavora tanto è un segno d'edizione che ci mette nel lavoro è giusto che si riposino che si riposino allora la pennichella pomeridiana sì o no oppure è dannosa per il nostro organismo? dannosa sicuramente no sì soprattutto se breve ma negli ultimi anni la ricerca ha sdoganato il concetto di recupero del sonno una volta pensavamo che il sonno non si recuperasse in realtà si recupera anzi se noi perdiamo sonno restringiamo il nostro tempo di sonno e recuperiamo le notti di sonno cosa succede? succede che percepiamo dopo due o tre notti di aver recuperato completamente siamo presenti la sonnolenza si ridotta cognitivamente siamo a posto in realtà se andiamo a misurare con strumenti oggettivi con la nostra capacità la capacità la recuperiamo dopo più giorni perché ovviamente abbiamo necessità di quel sonno è il nostro organismo che ce lo chiede a un certo punto allora dormire meno per guadagnare tempo non vogliamo diventare come i giapponesi nel senso che non è un segno d'onore nel senso che è la dedizione che mettiamo che è giusto che ci sia la dedizione al lavoro però noi viviamo in questa società frenetica non è così è vero non dobbiamo dormire meno dobbiamo uscire da questo concetto della società 24-7 la chiamano cioè 24 ore su 24 7 giorni su 7 il sonno non è tempo sottratto alla capacità di essere full time efficienti questo non va bene perché è una visione che va a rompere la fisiologia del sonno io cito sempre un romanzo americano della Karen Russell che è un romanzo distopico dove la malattia del futuro sarà l'insonnia cronica perché tutti i perconnessi e con la necessità di essere efficienti 24 ore su 24 avranno questa patologia ma in questo romanzo distopico chi è in sonne grave poi muore e quindi ovviamente curare il proprio sonno il messaggio che deve arrivare è che curare il nostro sonno è fondamentale dobbiamo avere un'igiene del nostro sonno e volerci anche un po' più bene grazie di cuore al dottor Romigi grazie per aver citato queste novità assolute adesso io